L'ufficio scolastico regionale, l'ufficio H, diretto dal dottore Gentile, qualche mese fa ha emanato una circolare dicendo che la città di Palermo e nelle altre regioni d'Italia, Milano e in particolare Roma, sono state coinvolte con uno studio epidemiologico dall'Istituto Superiore della Sanità, uno studio per l'individuazione precoce dello spettro autistico. Lo spettro autistico è una patologia che vediamo nelle scuole, nei nostri ragazzi, ma effettivamente forse c'è ancora una conoscenza limitata, anche perché nelle scuole noi ci troviamo davanti a ragazzi riconosciuti come autistici, però molto probabilmente si tratta di una condizione a volte che va da un minimo a un massimo. Questo che è stato presentato qui, perché sede dell'Osservatorio contro la dispersione di tutto il distretto 7, è stato presentato dalla dottoressa Bellomo, perché è la referente in Sicilia dell'Istituto Superiore della Sanità, coinvolgerà i bambini nati tra il 2007 e il 2009 con un questionario. Noi abbiamo invitato tutte le scuole che appunto afferiscono al nostro distretto, sono stati presenti i referenti, i dirigenti, e quindi adesso distribuiremo questo materiale nella speranza di dare un contributo di solidarietà, perché questa è ricerca e anche prevenzione di disturbi che notevolmente condizionano lo sviluppo dei ragazzi. Un progetto europeo che coinvolge un network di 12 stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, tre aree dell'Italia, quindi Milano, Roma e Palermo e provincia. Il progetto ha una grandissima valenza, perché mira a dare una corretta stima di prevalenza dell'incidenza del disturbo autistico, perché si ritiene, a confronto con i dati degli altri paesi del mondo, che in Europa e in particolar modo in Italia il problema sia sottostimato. E' un problema sottostimato, determina aiuti ed interventi sottostimati. Quindi una corretta stima del problema potrà attivare interventi di politica sociale, di interventi economici, che possano realmente incidere come aiuto nell'affrontare questa problematica. Sicuramente è bene notare come nel trattamento dei disturbi autistici, sicuramente il trattamento elettivo e il trattamento cognitivo comportamentale, ma la cosa importante è il riconoscimento, e quindi il trattamento che inizia in età molto precoce, perché prima si va a stimolare il bambino, sicuramente è più recupero, è più prognosi favorevole, ci può essere nella sua adolescenza e nel suo essere adulto. Io faccio parte di un'associazione, un'associazione di numeri primi, che nasce un'associazione di genitori con dei bambini che hanno questo tipo di problematica. E noi ci siamo uniti nel 2013, e la nostra finalità è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni del territorio per questa particolare patologia, creare anche dei progetti che possano riguardare anche l'inclusione dei bambini, dei nostri ragazzi nel tessuto sociale, e quindi spingerli, insomma, aiutarli all'autonomia personale. Diciamo che nella fattispecie noi stiamo aiutando il nostro piccolo, dando un contributo alla dottoressa Bellomo, per quanto riguarda questa attività che è veramente importante, perché permette di far emergere tutti quei casi, diciamo, borderline della patologia, che altrimenti, insomma, non verrebbero alla luce. Ci sono dei ragazzi che sono molto funzionali e che nascondono questo tipo di problema. Però, osservatori attenti, possono anche notare quei piccoli campanelli d'allarme che potrebbero sfociare in particolari, insomma, anche serie patologie in futuro. Sono Alessia Cuccia, psicopedagogista dell'Osservatorio per la Prevenzione della Dispersione Scolastica. Come per ogni, diciamo, attività che viene proposta per il benessere di tutta la popolazione scolastica, Noi, come osservatorio, ci battiamo proprio affinché nel territorio siano valorizzate queste azioni, in modo che il benessere a scuola venga in ogni modo promosso e i nostri ragazzi possano avere un benessere che, in questo caso, coinvolge in prima persona, come azione però le famiglie. Questa è una cosa importante che le famiglie appunto devono cogliere in modo tale che la restituzione di questi questionarii, che saranno in forma anonima ovviamente, possano però dare un aiuto, come diceva la Presidente prima, di solidarietà sociale e far sì che ci siano proprio più notizie possibili relativamente alla popolazione di questo territorio rispetto a questa patologia. Io sono Annalisa Longo, psicopedagogista territoriale. Sono bel lieta che il nostro osservatorio sia stato coinvolto in questo progetto e speriamo che iniziative del genere possano continuare ad essere. Grazie a tutti.